Chiederei a Lucky, a quale ricordo divertente sei più legato degli anni della generazione dei fenomeni? Lo abbiamo chiesto a Fefe, ora lo chiediamo a te. Visto che è stato chiesto a Fefe, devo comunque citare una situazione che ci ha visto protagonisti proprio per spingere Fefe nell'andare poi a declinare il suo grandissimo amore verso quella donna splendida che lo sta sopportando da diversi anni, che ha donato due perle, una più bella dell'altra, che ovviamente sono i figli di Ferdinando. In un collegiale abbastanza distrutti, disintegrati, perché era veramente molto molto difficile ed era abbastanza lungo anche quel collegiale, ci siamo detti, visto che Ferdinando è colui che deve avere la trasferta più lunga e visto che non vede l'ora ovviamente di poter arrivare dalla sua adorata Maria e visto che è quello che ha il petto più villoso, diamo ovviamente un contributo con non la S di squadra, ma la M di Maria. Superman si va a tatuare la S sul petto, noi abbiamo con un rasoio disegnato la M di Maria sul pelo di Ferdinando De Giorgi, il quale ovviamente ha potuto poi alla fine arrivare da Maria e far vedere che la M di Maria l'aveva tatuata sul suo petto. Grazie Laki. Io che conosco questo episodio so che Ferdinando ha fatto nel mare di Puglia tutta l'estate il bagno con la maglietta.